Ciao a tutti, io sono Letizia e ho partecipato a quattro viaggi di bioenergetica in paradiso in Italia, uno a Finale Ligure, due in Salento e uno in Abruzzo. E veramente, quando ho letto lo slogan che Marco e Daniele hanno pubblicato in questi giorni, quello che è come fare, andare in vacanza in paradiso è come fare un anno di terapia. Ma io mi direi ma più di un anno, perché la prima volta che sono andata a Finale Ligure è stata veramente una svolta, così come è stata una svolta andare in Abruzzo quattro giorni l'estate scorsa. Cioè, quattro giorni in Abruzzo, che tu dici chissà che cosa succede in Kenya o a Tamu. La cosa che mi è piaciuta di più di queste vacanze è proprio il lavoro profondo su di sé, il lavoro mirato come vuoi tu nella modalità che preferisci. E il tutto accompagnato da posti bellissimi e anziché lo diventano ancora di più per me. Per me è stato così. Grazie. Io aspetta, aspetta, ho un'altra cosa da dire. Io mi ricordo ancora la danza Sufi che abbiamo fatto a Finale Ligure. E l'altro giorno sono andata in una libreria e ho trovato un libro che ne parlava e mi sono ricordata di questa bellissima esperienza. Grazie. Grazie a te. Vuoi parlare qua? Vabbè, dai, intanto qui ci sono e c'è acceso il micromolo. Vai, vai. È un po' forzata, ma assolutamente no in realtà. Intanto io ci devo dire che, vabbè, mi piacerebbe tantissimo partire con voi, ma devo partire da un'altra parte, quindi non posso. Altrimenti sarei venuta proprio al volo, al volo di corsa. Però la scoperta del fatto che tu ami partire e lavorare in viaggio l'hai fatta in Bioenergetica. Sì, sì, esatto, ma cioè non solo quello. Proprio uno dei primi imprinting che ho avuto con la Bioenergetica è stata proprio lì. E da lì comunque si è rafforzato tutto. È stato molto importante per me fare quella vacanza, sia per indagare su di me, che per scoprire cosa mi piace realmente, che per stare proprio nel piacere proprio. Veramente, poi quando tu hai messo nella slide, per esempio, il fatto che in vacanza si può anche non star bene. Questo è assolutamente vero, me lo ricordo. Io sono stata in Thailandia. Mi ricordo il crollo che ho avuto, per esempio, in Thailandia, dove tu dici, caspita, uno dei posti più belli del mondo. È proprio vero. Cioè, queste vacanze che in realtà ti servono... L'abbiamo persa. L'abbiamo persa tutte e due. Vediamo se tornano. Bruce, vuoi dire tu qualcosa? Luna, vuoi dire tu qualcosa? Quelle due stanno sempre insieme però. Ci siete? Non so se non lo ritorniamo. Sì, ci siamo. Mi ha buttato fuori da solo. Quindi, secondo me queste vacanze servono proprio anche a indagare su se stessi, ma è molto più profondo. Prendere la vacanza e farci un ragionamento rispetto a tutto il resto della vita quotidiana in cui noi viviamo. È molto importante. Ovviamente è bellissimo. Io adesso qua ho parlato soprattutto dell'atto proprio personale e della ricerca personale, ma rispetto anche a tantissime altre cose, aiuta tanti, amplifica tutto. È proprio vero quando si dice che la bellezza dei posti viene esaltata. Poi, vabbè, per me è molto importante anche il gruppo, come dicevo prima, ma perché io sono... è la cosa che a me piace. E quindi, niente, a chiunque volesse fare questa vacanza, io glielo consiglierei proprio con tutto il cuore. Cioè, io l'ho detto, se non dovessi lavorare, subito. Grazie, grazie per l'entusiasmo. Grazie. Bruce. Bruce, Luna, volete dire qualcosa? Allora... Vai, 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 Bruce, vai tu, vai perché sto già gridando il microfono. Vado io? Allora, purtroppo per gli stessi motivi di lavoro, e sono qui che sto... È una vacanza mai superciare, come hai detto tu. Si lavora su se stessi, e poi ci sono delle cose che io adoro, come la condivisione, lo stare in gruppo. Ma non è comunque obbligatorio, ci sono persone che non se la sentono di stare in gruppo, possono affrontare la giornata in una maniera totalmente libera, e come si sentono di farla. Per cui io adoro alzarmi la mattina a fare gli esercizi, adoro fare colazioni insieme, a chiacchierare, passami i cornflakes, piuttosto che un'altra cosa. Poi prendersi anche un po' in giro, a volte simpaticamente. E poi se uno vuole andare al mare, va al mare. Se non vuole andare, vuole andare in cantina, vada in cantina. Se vuole andare da un'altra... Insomma, è una cosa molto libera e soprattutto mai superficiale. e torni pieno di un'energia che hai quasi paura che svanisca. In realtà no, perché ti vengono anche dati gli strumenti per poter mantenere e scegliere di continuare a vivere connessi in questa profondità. Per cui il lavoro mi piange veramente il cuore, ma non ci si può collegare via Zoom. Sì, dai, sarebbe carino. Non so il fuso radio. Com'è il fuso radio? Tre ore? Tre ore in avanti? Due? Eh, non so, beh, insomma, dai, almeno qualche qualche... Eh no, però, insomma, io... Se da noi sono le otto lì, qui sono le sei del mattino. E quindi dovresti farla... Che se ne importa? Eh, vabbè, la farò, ma non importa, non importa, non importa. Quest'anno purtroppo non riesco assolutamente a partecipare, ma... Sono lì, col cuore sono davvero lì. Grazie, Bruce. Luna, vuoi dire qualcosa? Sì, sì, sì. Allora, io ho, diciamo, conosciuto la bioenergetica prima di fare... Io ho partecipato a bioenergetica in Salento nel 2021, credo, settembre 2021. Conoscevo la bioenergetica prima, e poi diciamo che per me quella vacanza è stato veramente l'inizio della mia trasformazione profonda che ho avuto nella mia vita, sia poi quella che ha portato anche all'istituzione di For Kenya, e quella che poi anche ha portato a Discovery Kenya, insomma, che sono le due sorelle. Eh, sinceramente, un'altra cosa che mi ha scioccato di più, e l'ho sempre detto anche a Marco, è il fatto che io quando... Io non volevo andare in questa vacanza perché dormo sempre tanto, adoro dormire, per me svegliarmi la mattina è veramente un incubo, quindi pensare a una vacanza che iniziasse alle otto per me era una tortura umana. C'è una roba che proprio dicevo, ma perché devo anche pagare per andare a fare una roba del genere? Poi per qualche motivo ho sempre abbastanza una vena di follia, quindi dico, vabbè, andiamo a vedere, perché poi sono molto curiosa, quindi conoscendo la bioenergetica e comunque il valore che aveva avuto fino a quel momento, ho detto, vabbè, voglio andare a vedere. Io ricordo che il primo giorno mi svegliai, credo, alle otto alle otto, e poi mano a mano, otto meno un quarto, sette e mezza, sette e un quarto, e quindi era proprio, insomma, a livello, cioè non capivo neanche come fosse possibile, perché come se il mio corpo per qualche motivo, in qualche modo si stesse autocontrollando e mi svegliassi sempre prima perché ero più energica, non avevo più questa pesantezza allucinante la mattina, e un'altra delle cose super scioccanti, io sono una dipendente del cioccolato, dei dolci, in una maniera incredibile, io dal secondo giorno non mi entrava neanche più il pasticciotto, cioè una cosa orribile, cioè proprio io non riuscivo a mangiare nutella, infatti è una delle cose che mi ferma dal tornare a fare questa vacanza, perché mi piace la cioccolata, però per qualche motivo, cioè il mio corpo non aveva più bisogno di questo affogo di cioccolata, che ovviamente poi è tornato, però ho visto dei cambiamenti pazzeschi e soprattutto per me è stato fondamentale l'accompagnamento che poi Marco fa durante la vacanza, quindi connettere la vacanza, perché è vacanza, come diceva Bruce, questo è importantissimo, cioè non è una vacanza strutturata, ecco come potremmo dire avventure del mondo o quant'altro, cioè c'è comunque una situazione individuale, dove se tu il pomeriggio vuoi fare una roba tua, ce la fai, ma sempre in realtà, quindi non sei costretto a un gruppo, in realtà poi ci vuoi stare nel gruppo, ma sapere che comunque se tu non ci vuoi stare c'è una tua libertà, insomma per me è comunque molto importante, e da lì il fatto che però qualsiasi cosa tu scopri e ti emerge a livello personale, poi la puoi subito lavorare con un professionista, che per me è la cosa che più in assoluto crea il plus in questo tipo di vacanza, perché veramente è vero, quando poi Marco ha scritto tornare con un anno di terapia su di te, cioè io oggi a distanza di due anni mi rendo conto che tutti i mattoni che poi hanno costruito una casa sono stati messi veramente in quei otto, nove giorni, e per me continuo a essere, insomma, sorpresa e continuo a consigliarlo a chiunque, perché è una trasformazione di vita che, ma non trasformazione di shock, cioè può essere una conferma di qualcosa che già sai ma che emerge, può essere qualcosa che non sai e che emerge, però è una grande esperienza, quindi sì, questa è la mia condivisione. Grazie, grazie. Mi hai toccato, grazie. Allora, io sono la moglie di Marco, che dire, sono psicologa e ho diciamo un duplice ruolo, quindi partecipo a queste fantastiche esperienze dal 2017, sia in Italia che all'estero, e quindi da partecipante e da organizzatrice. Diciamo che da partecipante, va tutto quello che avete detto fino adesso, mi viene da dire che quando le persone vengono chiamate a partecipare a questa esperienza, porta, gli arriva un senso di introspezione, quindi le persone vengono portate a guardarsi dentro e lavorare con il corpo. Il corpo è fondamentale, perché poi alla fine è il corpo quello che ha la risposta naturale e vera. Quindi si lavora, adesso io dico lavorare, ma non è la parola corretta, si sta in gruppo, è vero come dice Marco, quando uno lo vuole, sicuramente, ma il gruppo ti dà talmente tanto che sono convinta che tutte le persone poi vorranno comunque stare con gli altri. Ovviamente ci saranno i momenti anche di possibilità di poter stare da soli, quello sicuramente, ma questa esperienza ti tocca talmente tanto che ti va di stare con gli altri, perché ti va di approfondire, di relazionarti, perché si toccano alcuni argomenti, se si vuole sempre, talmente profonde e talmente anche leggeri, perché c'è proprio questa dicotomia tra due estremi, perché la vacanza sarà estremamente profonda, ma allo stesso tempo non superficiale, ma leggera. Si piangerà, si riderà, ci sono tutte le emozioni in ballo, quindi basta che le persone si vogliano mettere in gioco e stare bene, divertirsi, vi divertirete davvero tantissimo, perché poi appunto questo clima ti permette di essere te stesso e di poterti sperimentare al meglio. Poi ci saranno delle cose che non si possono dire adesso, per poter aiutare le persone a valorizzarsi e a valorizzare gli altri. Sì, non si possono dire per non rovinare la sorpresa. No, per non rovinare la sorpresa, certo. Tipo i bollini. Tipo i bollini, chi ha partecipato ovviamente conosce di che cosa stiamo parlando, esatto. Tipo i bollini.